benvenuti alla trentesima lezione di istituzioni di matematica oggi vediamo di parlare ancora un attimo di crescenza e convessità delle funzioni e cercare di capire meglio come le derivate la derivata prima e la derivata seconda ci aiutano a comprendere come è fatta una funzione qual è il grafico della funzione è il momento del riassunto ricordiamo come abbiamo visto che f primo maggiore di zero in un punto vuol dire f crescente in quel punto f uguale a zero in un punto vuol dire che quello è un punto stazionario f primo minore di zero vuol dire che è la funzione decrescente in quel punto ma cerchiamo di comprendere meglio perché abbiamo dato queste definizioni e cerchiamo di comprendere meglio come il segno della derivata prima e il segno della derivata seconda ci danno informazioni sul grafico della funzione quindi iniziamo appunto con la derivata prima supponiamo che f sia derivabile nell'intervallo aperto ab e continua nell'intervallo chiuso a b supponiamo inoltre che la derivata di f in nell'intervallo aperto sia sempre maggiore di zero allora allora sappiamo qualcosa cosa da teorema di lagrange che abbiamo citato ovvero allora esiste un punto c in nell'intervallo aperto a b tale che la derivata in c è uguale a la differenza f b meno fa diviso b meno a ma attenzione b meno a è positivo la derivata è positiva perché abbiamo supposto che in tutti i punti dell'intervallo è positiva allora questo vuol dire che f di b meno f di a è positivo cioè la funzione vale in b più di quanto valga in a proviamo un attimo a generalizzare questo discorso e quindi fissiamo x con zero un punto qualsiasi nell'intervallo a b e x con uno un altro punto un intervallo a b diverso da x con zero usando esattamente lo stesso criterio di prima ovvero il teorema di Lagrange esiste un punto nell'intervallo compreso compreso tra x con zero e x con uno ma potremmo dire nell'intervallo a b in particolare se è compreso nell'intervallo tra x con zero e x con uno non sappiamo quale è di due più grandi ma di sicuro è compreso nell'intervallo a b che contiene entrambi nell'intervallo b aperto l'intervallo a b chiuso contiene entrambi tale che f primo di c è uguale a f di x con uno meno f di x con zero diviso x con uno meno x con zero e quello che sappiamo è che la derivata in c è maggiore di zero questo cosa vuol dire? vuol dire che questi due oggetti hanno lo stesso segno hanno lo stesso segno vuol dire che se x con uno viene dopo x con zero f di x con uno è maggiore se x con uno viene prima f di x con uno è minore il che vuol dire esattamente che f è crescente dato che x con uno e x con zero sono punti arbitrari dell'intervallo in a b chiuso quindi quello che siamo andati a dimostrare è che se abbiamo una funzione derivabile nell'intervallo aperto e continua nell'intervallo chiuso con derivata positiva allora la funzione è crescente nell'intervallo chiuso se per ipotesi avessimo avuto non la funzione con derivata prima positiva ma con derivata prima negativa il discorso si poteva fare uguale e quello che avremmo avuto è che questo oggetto la derivata prima in c sarebbe stata negativa il che voleva dire che questi due avevano segno opposto ovvero che la funzione era decrescente quindi quello che abbiamo scoperto scriviamoci bello chiaro è il seguente risultato teorema se f è continua una funzione a valori reali ovviamente è continua in ab e derivabile in ab allora punto uno se f primo è maggiore di zero in ab aperto allora f è abbiamo detto crescente ma in realtà come vedete dalle disuguaglianze è strettamente crescente diciamola più precisa allora f è strettamente crescente in ab e seconda cosa se la derivata invece è minore di zero nell'intervallo aperto ab allora f è strettamente decrescente in ab chiuso quindi il segno della derivata prima ci permette perfettamente di stabilire come si comporta il grafico della funzione dove la derivata prima è positiva in un intervallo allora in quell'intervallo addirittura nell'intervallo chiuso la funzione è strettamente crescente dove il segno è negativo in un intervallo allora la funzione è strettamente decrescente addirittura nell'intervallo chiuso quindi questo è un ottimo strumento per calcolare la crescenza e la decrescenza di una funzione ovviamente potrebbe capitare che la nostra funzione si comporti in maniera molto molto strana le funzioni possono essere arbitrariamente complicate e avere comportamenti veramente veramente strani ma se prendiamo delle funzioni definite a partire da funzioni elementari eccetera eccetera allora quello che succede in realtà è abbastanza semplice avremo degli intervalli in cui la derivata è positiva degli intervalli in cui la derivata è negativa e qua riusciremo a trattare bene la crescenza e la decrescenza della funzione dividiamo gli intervalli e abbiamo intervalli di crescenza e intervalli di decrescenza bene e ora chiediamoci e per la derivata seconda che cosa accade che cosa possiamo dire beh supponiamo di nuovo che f funzione valori reali sia continua in ab chiuso e derivabile due volte in ab aperto se la derivata seconda è maggiore di zero che cosa abbiamo allora sappiamo che la derivata prima è crescente con le ipotesi che abbiamo in semplicemente ab aperto perché negli estremi potrebbe essere addirittura non definita la derivata prima non è un grosso problema questo lo facciamo semplicemente utilizzando il fatto che la derivata seconda è semplicemente la derivata prima della derivata prima e utilizziamo la proposizione che abbiamo appena dimostrato niente di più e niente di meno ok bene a questo punto che cosa che cosa vuol dire vuol dire che se abbiamo un certo intervallo in cui la derivata seconda è maggiore di zero siamo in una situazione in cui la derivata prima è crescente ovvero la pendenza delle tangenti aumenta sempre bene che cosa ci dice tutto ciò consideriamo due punti sul grafico x1 e x2 x1 e x2 non sono sul grafico ovviamente i punti sul grafico saranno x1 f di x1 e x2 f di x2 quello che vogliamo far vedere è che il segmento che li collega è tutto contenuto nell'epigrafico della funzione ovvero detto in altri termini il segmento tra x1 e x2 tra i punti sul grafico relativi a x1 e x2 sta al di sopra del grafico della funzione ovvero l'epigrafico della funzione è convesso ovvero la funzione è convessa f è convessa in ovviamente a b ok questo è quello che vogliamo dimostrare il nostro obiettivo è dimostrare che il segmento è tutto contenuto nell'epigrafico facciamoci il nostro disegno a b qua abbiamo a f di a b f di b ovviamente x0 f di x0 x1 f x1 allora è qua b f di b qua per comodità di disegno stiamo supponendo che x0 venga prima di x1 ovviamente a meno di cambiare il nome ai due punti possiamo supporre questa cosa non stiamo facendo assolutamente nulla di strano poniamo per assurdo che la nostra funzione non sia convessa cosa vorrebbe dire se per assurdo f non fosse convessa allora esisterebbero un x con 0 e un x con 1 tali che questo segmento non stia tutto sopra al grafico della nostra funzione quindi esistono x con 0 e x con 1 come in figura ed esiste un punto x con 2 che è compreso nell'intervallo x 0 x 1 tale che x con 2 f di x con 2 il grafico della nostra funzione in realtà sta sopra al valore al segmento che unisce le immagini di x 1 e x 2 i punti del grafico di x 1 e di x 2 esiste x 2 tale che abbiamo la situazione in figura ma allora consideriamo due secanti al grafico la secante che congiunge x 0 e x 2 e la secante che congiunge x 2 e x 1 quelle sono due secanti al grafico poiché per andare da se prolungo il segmento bianco prolungo il segmento verde il segmento azzurro si vede che le pendenze coefficienti angolari i coefficienti angolari si comportano in questa maniera il coefficiente angolare della retta azzurra è il più grande di tutti poi segue il coefficiente angolare della retta bianca poi segue il coefficiente angolare della retta verde spero che nessuno di voi sia dal tonico visto che ho usato sempre la stessa lettera ma spero che distinguiate tutti l'azzurro dal verde non ho usato verde e rosso opposta e questo che cosa ci dice? beh ci dice appunto un qualcosa su queste rette secanti ma noi vogliamo sapere qualcosa sulle rette tangenti e allora usiamo il teorema di Lagrange ancora il teorema di Lagrange che cosa ci dice? ci dice che esiste un punto c tra x con 0 e x con 2 tale che la derivata nel punto c è uguale uguale a il coefficiente angolare della secante per x0 e x2 cioè uguale all'm azzurro il teorema di Lagrange di nuovo applicato questa volta all'intervallo x2 e x1 ci dice che esiste un punto d che appartiene all'intervallo x2 e x1 tale che il coefficiente angolare nel punto d è uguale al coefficiente il valore della derivata nel punto d ovvero il coefficiente angolare della tangente nel punto d è uguale al valore del coefficiente angolare della secante verde quindi questo m ovvero cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto che esistono c e d dove c è minore di x2 che è minore di d quindi esiste un c minore di d tale che la derivata in c è maggiore della derivata in d ma noi avevamo concluso precedentemente che f' era crescente in ab il che vuol dire che non può capitare questa situazione questo è un assurdo ed essendo un assurdo vuol dire che non era vera la supposizione quindi f è convessa ovviamente se cambio ipotesi suppongo che f abbia derivata seconda negativa ci viene che f primo è decrescente e ci viene che la nostra funzione è concava come posso fare? beh applico tutti i ragionamenti semplicemente quello che ho già fatto lo applico a meno f se f' è negativo meno f' è meno f' mettendo le parentesi in maniera diversa ovvero meno f' è uguale a meno f' secondo e in questo in questo caso è positivo se f secondo è negativo e allora cosa otteniamo? otteniamo che meno f è convessa che è la definizione di dire f è concava pertanto abbiamo il nostro teorema per le derivate seconde che ci dice se f è continua in a b chiuso e derivabile due volte in a b aperto allora se f secondo è maggiore di zero nell'intervallo aperto allora f è convessa nell'intervallo aperto seconda cosa se f secondo è minore di zero in a b allora f è concava in a b se uno guarda meglio la dimostrazione in realtà non abbiamo mai usato davvero che x con zero ed x con uno non possono coincidere con a e b il ragionamento funziona uguale perché tanto questi punti si trovano nell'intervallo aperto quindi in realtà è concava o convessa nell'intervallo chiuso a b inoltre questo ragionamento ci permetterebbe di dire anche se l'avessimo definito che è strettamente concava strettamente convessa ovvero non può neanche i punti all'interno non possono stare neanche sul segmento dato che la funzione con cui abbiamo a che fare è strettamente crescente non solamente crescente impedita anche l'uguaglianza qua in realtà ma strettamente concava strettamente convessa non si usano come termine quindi evitiamo però se vogliamo essere più recisi diciamo che è convessa in a b chiuso oppure concava in a b chiuso questo è uno strumento eccezionale è uno strumento eccezionale perché ci permette con un metodo algoritmico metodo algoritmico ovvero segue una serie di istruzioni che sono quelle del calcola la derivata calcolare la derivata è un metodo algoritmico perché se la funzione ovviamente è definita a partire da funzioni elementari con somma prodotto differenza quoziente composizione inversa di funzioni elementari allora abbiamo un modo per calcolare la derivata semplicemente utilizzando le regole del prodotto della composizione della somma di derivate e le derivate note per le funzioni elementari quindi abbiamo un metodo algoritmo che ci permette di calcolare derivata prima e derivata seconda che dà informazioni su crescenza e convessità di f ora attenzione è fantastico abbiamo un metodo algoritmico che dà informazioni su crescenza e convessità di f ovviamente c'è un problema il problema qual è? è che dobbiamo essere in grado di capire quando la derivata seconda la derivata prima sono maggiori di zero o minori di zero e questo non è immediato che si sappia fare ci sono funzioni per cui non riusciamo a trovare esattamente i valori degli zeri con dei metodi algoritmici ma servono dei metodi di approssimazione dei metodi numerici per trovare approssimativamente gli zeri quindi seppur questo metodo sia fantastico e sia ottimo a livello teorico quando poi lo vogliamo implementare potrebbe esserci il problema che servono dei metodi numerici servono delle approssimazioni per arrivare al risultato ovviamente negli esercizi che faremo noi faremo sempre degli esercizi in cui i conti si possono fare esplicitamente non serve approssimare però sappiate che in generale ci può essere il problema che per trovare gli zeri di una funzione non c'è un metodo esatto ma servono delle approssimazioni anche per funzioni relativamente semplici come abbiamo detto per polinomi dal grado quinto al successivo non è possibile avere un metodo esatto bene concludiamo questa breve lezione con un esempio esercizio classifico semplicemente come es ovvero vediamo di fare uno studio di funzione completo perché ora che abbiamo le derivate possiamo trattarle veramente bene consideriamo la funzione di legge x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1 ora attenzione la funzione non ha tanto senso perché in realtà dovremmo dire chi è il dominio chi è il codominio e allora cosa intendiamo implicitamente ma io lo dico esplicitamente tutte le volte perché sia chiaro quando diciamo la funzione di questa legge intendiamo innanzitutto che quella è la legge ovviamente il codominio prendiamo tutti i numeri reali r e il dominio consideriamo un dominio di contenuto in r massimale tale che l'espressione analitica la legge della funzione ovvero questa abbia senso abbia senso e ovviamente restituisca un numero reale non qualcos'altro bene quindi che cosa facciamo punto 1 cerchiamo il dominio massimale della nostra funzione prima di poterla studiare ovviamente dobbiamo chiarire bene chi sono oltre alla legge che è data dal testo oltre al codominio che assumiamo sempre essere i numeri reali anche chi è il dominio una volta che abbiamo questi dati sappiamo chi è la funzione e vediamo di capire come è fatta e cercare di disegnarne un grafico approssimativo al meglio delle nostre conoscenze bene cerchiamo il dominio massimale il dominio massimale sono tutti i punti di r dove le cose sono ben definite il numeratore è un polinomio è definito qualunque sia x in r il denominatore è un polinomio è definito qualunque sia x in r poi abbiamo un rapporto e quindi attenzione non si può dividere per 0 e quindi questo ci dice che i punti in cui x al quadrato meno 1 è uguale a 0 non sono nel dominio x al quadrato meno 1 è diverso da 0 questo è diverso da 0 portando l'uno dall'altro lato se è soltanto se x al quadrato è diverso da 1 ma x al quadrato è diverso da 1 se soltanto se facciamo la radice quadrata o meglio più che la radice quadrata cerchiamo tutti i numeri che al quadrato fanno 1 e sono la radice di 1 che è 1 ma anche il suo opposto quindi x deve essere diverso da più o meno 1 pertanto questo è l'unico vincolo che abbiamo sul dominio massimale e concludiamo che il dominio massimale è tutto r privato dei punti più e meno 1 pertanto abbiamo la nostra funzione che va da r privato dei punti più e meno 1 che possiamo anche esprimere come da meno infinito a meno 1 unito da meno 1 a 1 unito da 1 a più infinito a valori in r che ad x associa x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1 a questo punto una cosa che possiamo fare che è facoltativa ma ci può risparmiare dei conti è studiare le simmetrie della funzione ovvero se pari o dispari prima cosa devo cercare di chiedermi se questo ha senso ha senso beh il dominio della funzione è r privato dei punti più e meno 1 che è simmetrico rispetto allo scambio di x con meno x quindi ha senso porsi la domanda questo è simmetrico perché i punti che non stanno nel dominio vanno l'uno nell'altro più 1 quando lo moltiplico per meno 1 va in meno 1 meno 1 quando lo moltiplico per meno 1 va in più 1 il dominio è simmetrico che ha senso farsi la domanda calcoliamo quindi f di meno x f di meno x è meno x al quadrato più 1 diviso meno x al quadrato meno 1 che è semplicemente il quadrato di meno x è meno 1 al quadrato per x al quadrato ma meno 1 al quadrato fa 1 quindi x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1 che è semplicemente f di x. Ovviamente uno poteva ragionare in maniera molto più generale, x al quadrato è una funzione pari, 1 è una funzione pari, x al quadrato è una funzione pari, meno 1 è una funzione pari, quindi la somma sopra è una funzione pari, la somma sotto è una funzione pari, il rapporto di funzioni pari è una funzione pari. Ovviamente questo se uno lo voleva trattare in modo molto generale senza neanche fare i conti. Comunque abbiamo scoperto che la nostra funzione è pari. Quindi ci possiamo limitare a studiarla per x maggiore o uguale di 0. Quindi d'ora in avanti supporremo x maggiore o uguale di 0. Tra l'altro nel frattempo converrebbe, io ora qua me lo porterò a spasso pagina dopo pagina, ma quando fate un compito, un esercizio, vi dedicate un foglio a fare il grafico e man mano aggiungete le informazioni che avete. Che informazioni abbiamo per ora? Per ora abbiamo l'informazione di quali sono i punti che non stanno nel dominio. Quindi meno 1 e più 1 non stanno nel dominio. Disegno degli assi rossi per far vedere che non c'è nulla nel dominio. Bene, una volta che abbiamo scoperto che la nostra funzione è pari, ovviamente non ci serve cercare di capire se è dispari, l'unica funzione che è contemporaneamente pari e dispari è la funzione nulla. Ma questo chiaramente non è il caso. Bene, quindi la studiamo soltanto per x maggiore o uguale di 0. Ora, continuo a tenermi qua in un angolo il grafico, così man mano infilerò le nuove informazioni. La cosa fondamentale dell'infilare man mano nuove informazioni è che se scopriamo delle contraddizioni dal grafico, vuol dire che abbiamo fatto degli errori da qualche parte. Dobbiamo riguardare quello che abbiamo fatto e cercare di capire cos'è che non andava bene. Quindi, terza cosa che proviamo a fare è lo studio del segno per capire dove la funzione è maggiore di 0, dove la funzione è minore di 0. Quindi ci interroghiamo quando f di x è maggiore o uguale a 0. La nostra funzione ha per legge x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1, quindi questo è maggiore o uguale di 0, quando studiamo separatamente numeratore e denominatore. x al quadrato è sempre maggiore o uguale di 0, più 1 è sempre strettamente maggiore di 0, quindi il numeratore è sempre maggiore di 0. x al quadrato meno 1, invece, lo posso esprimere come x più 1 per x meno 1 e di conseguenza posso studiare separatamente x più 1 maggiore di 0, x meno 1 maggiore di 0. Metto i maggiori stretti perché siamo il denominatore, 0 è escluso, ovviamente l'ho già tolto. dal dominio, eccetera, eccetera. Questo viene x maggiore di meno 1 e questo viene x maggiore di più 1. Di conseguenza gli unici punti problematici sono meno 1 e 1. Abbiamo che il numeratore è sempre strettamente positivo, x più 1 è positivo dopo meno 1. x meno 1 è positivo dopo 1. Quindi il segno più per meno per meno segno negativo, più per più per meno, scusate, più per meno per meno segno positivo, un numero pari di segni meno, più per più per meno segno negativo, più per più per più segno positivo. Di conseguenza la funzione è positiva quando il modulo è maggiore di 1 è negativa prima. Quindi è negativa nel mezzo. Quindi qua la funzione è positiva prima di meno 1, la funzione è positiva anche dopo 1, cancello la zona in cui non può stare la funzione e tra meno 1 e 1 la funzione è negativa. Quindi cancello questo. Bene, ovviamente uno poteva anche farlo dicendo x quadro meno 1 so che ha come soluzioni più 1 e meno 1. È una parabola con coefficiente del termine di secondo grado positivo, quindi è una parabola con la convessità rivolta verso l'alto. Quindi vuol dire che è positiva per valori esterni alle radici e negativa per valori interni. Ovviamente va benissimo. È una questione di gusti. Bene, a questo punto dobbiamo fare i limiti agli estremi del dominio. Mi ridisegno quello che ho scoperto finora. Ovviamente voi non lo dovreste ridisegnare perché avete già tutto messo bene in un unico foglio. Io sto cambiando la pagina della mia lavagna virtuale e quindi sto ridisegnando le cose. Abbiamo scoperto che qua in mezzo è negativa, qua è positiva, qua è positiva. Questo è tutto quello che abbiamo scoperto finora. Ovviamente in realtà possiamo studiarla anche solo da qua in avanti, ricordiamo. Quindi limite agli estremi del dominio. Perché per il resto è una composizione, quoziente, eccetera, eccetera. La deriviamo da funzioni elementari, quindi è continua la nostra funzione. Quindi sappiamo già che è continua. F è continua e quindi altrove non ci interessa fare i limiti perché già sappiamo come si comportano. Bene, ma quali sono gli estremi del dominio? Il nostro dominio è meno infinito, scusate, meno infinito, meno 1, unito, meno 1, più 1, unito, più 1, più infinito e quindi i limiti che ci interessa fare sarebbero a meno infinito, a meno 1 meno, a meno 1 più, a più 1 meno, a più 1 più, a più infinito. Ma attenzione! È pari la funzione e quindi ci basta studiarla per x maggiore o uguale a 0. Quindi gli unici limiti che ci interessano sono a 1 meno, a 1 più, e a più infinito. Questi sono i limiti che ci interessano davvero. Quindi vediamo di calcolare questi limiti e abbiamo innanzitutto il limite per x che tende, calcoliamo quello a più infinito, di x al quadrato più 1 su x al quadrato meno 1. se sostituiamo ci viene della forma più infinito su più infinito che è una forma indeterminata. Quindi abbiamo varie possibilità. O raccogliamo il termine di grado massimo oppure utilizziamo il fatto che sappiamo che in un polinomio l'unica cosa che conta è quello di grado massimo e il limite è lo stesso, scegliete quello che preferite. In ogni caso ci viene che l'unica cosa che c'è da vedere è il rapporto tra il termine di grado massimo che sono uguali, quindi il limite per x che tende a più infinito di 1 ma questa funzione è costante quindi fa 1. Inoltre siccome la nostra funzione è pari questa è la stessa cosa del limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione. Abbiamo che c'è un valore 1 a cui la nostra funzione si avvicina. Da sopra? Da sotto? Qua dal ragionamento che abbiamo fatto non lo sappiamo. Potremo o scoprirlo in seguito sulla base di quello che succede quando calcoliamo le derivate vediamo eventuali intervalli di crescenza e di decrescenza o se vogliamo possiamo fare un ragionamento più raffinato qua. Cosa vediamo? Beh, vediamo che quando x è grande x al quadrato più 1 è sempre più grande di x al quadrato meno 1 o se vogliamo la nostra funzione x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1 ce la possiamo scrivere come x al quadrato meno 1 più 2 diviso x al quadrato meno 1 che è x al quadrato meno 1 diviso x al quadrato meno 1 fa 1 più 2 diviso x al quadrato meno 1. Quando x è grande abbiamo detto che questo denominatore è positivo quindi questa cosa qua è positiva quindi la nostra funzione è maggiore di 1. La nostra funzione è maggiore di 1 vuol dire che chiaramente i limiti sono 1 più ora qua non si vede ok bene disegniamo qua la nostra funzione quindi i nostri limiti in realtà sono 1 più questo ragionamento che è buonissimo non è necessario strettamente perché quando calcoleremo le derivate quello che scopriremo è che qua la funzione sarà crescente qua la funzione sarà decrescente quindi scopriremo automaticamente come si comporta a cosa può essere utile fare questo ragionamento subito nel fatto che abbiamo già scoperto che qua vicino a meno infinito la funzione deve essere crescente vicino a più infinito la funzione deve essere decrescente se per caso con la derivata otteniamo un risultato di tipo diverso vuol dire che abbiamo scoperto che c'è un errore di qualche tipo in quello che abbiamo fatto c'è una qualche incongruenza bene andiamo avanti a calcolare le nostre derivate vogliamo calcolare la derivata a 1 più e a 1 meno proviamo a calcolare qual è la derivata in 1 limite per x che tende a 1 e vediamo che cosa succede abbiamo x quadro più 1 diviso x quadro meno 1 quello che succede quando ci avviciniamo a 1 il numeratore la funzione continua va semplicemente a 2 il denominatore va a 0 2 su 0 fa infinito il segno beh il segno non è troppo importante il segno lo vediamo già dalle informazioni che abbiamo qua a 1 meno il segno dovrà essere per forza meno e qua a 1 più il segno dovrà essere per forza più ora qua le cose non le ho disegnate bene perché c'è il simbolo che copre tutto ora ridisegno le cose e continuiamo ad andare avanti quindi abbiamo tutto quello che abbiamo visto finora 1 meno 1 abbiamo che qua in mezzo la funzione è negativa qua la funzione è positiva abbiamo trovato che c'è un asintoto orizzontale non ho detto ma si chiama così quando abbiamo una retta a cui una curva si avvicina si chiama asintoto quindi questo qua è un asintoto orizzontale questo è il valore 1 andiamo che qua si avvicina così qua abbiamo il limite che è più infinito qua abbiamo il limite che è meno infinito e qua a sinistra si riparcuote tutto esattamente uguale grazie al fatto che abbiamo che la nostra funzione è una funzione una funzione pari inoltre con il ragionamento che abbiamo fatto prima del del fatto che il limite qua era 1 più avevamo scoperto semplicemente che se il denominatore era positivo la nostra funzione valeva più di 1 quindi quello che avevamo scoperto prima con quel ragionamento era che effettivamente qua non poteva esserci la funzione lo disegno in verde è una cosa in più che ho scoperto che non sarà così fondamentale dato che poi lo scopriremo anche ragionando con la derivata prima ma è comunque un qualcosa di extra che abbiamo scoperto che vale la pena essere messo nel grafico perché? perché se poi dopo facciamo qualche errore delle incongruenze nel grafico ci dicono che abbiamo commesso un errore che possiamo andare quindi a controllare più informazioni mettiamo meglio è perché ci permette di scoprire eventuali errori e di correggere il tiro errare va benissimo anzi può essere molto utile ma attenzione che bisogna sempre avere l'idea il senso matematico di quello che si sta facendo di quello che sta succedendo per poter capire se si è sbagliato qualcosa ed essere pronti a cambiare traiettore ovviamente questi due assi qua sono degli asintoti verticali ovvero sono di nuovo delle rette a cui il grafico della funzione la curva man mano si avvicina quindi abbiamo studiato anche i limiti e ora studiamo a questo punto 5 la derivata prima derivata prima che ci serve per studiare la crescenza della nostra funzione bene scriviamoci quindi la funzione f di x è x al quadrato più 1 diviso x al quadrato meno 1 che è una cosa della forma una funzione g diviso un'altra funzione h quindi la derivata derivata di un rapporto è denominatore al quadrato per derivata del numeratore per il denominatore meno numeratore per derivata del denominatore sostituiamo le cose magari ci possiamo anche scrivere da parte chi è la derivata del numeratore la derivata del numeratore è una somma quindi derivata del primo più derivata del secondo la derivata di x quadrato è 2x la derivata di 1 che è una costante è 0 derivata del denominatore di nuovo il denominatore è una somma quindi derivata del primo più derivata del secondo la derivata del primo di nuovo è 2x la derivata del secondo è 0 perché è una costante le cose diventano particolarmente semplici e ora sostituiamo semplicemente g primo è 2x per il denominatore x quadro meno 1 meno h primo è 2x per il numeratore che è x quadro più 1 diviso x quadro meno 1 al quadrato ora qua possiamo raccogliere il 2x quindi abbiamo 2x che moltiplica x al quadrato meno 1 meno x al quadrato più 1 cioè quindi meno x quadro meno 1 il tutto diviso per x quadro meno 1 al quadrato a questo punto semplifichiamo x quadro e meno x quadro se ne vanno e quindi il valore della nostra derivata è semplicemente 2x per meno 2 quindi meno 4x diviso x al quadrato meno 1 al quadrato quello che vogliamo fare per studiare la crescenza è molto semplice dobbiamo studiare il segno di questa cosa al denominatore abbiamo un quadrato che quindi è sempre positivo nel nostro dominio potrebbe essere nullo ma dove nullo chiaramente è dove la nostra funzione non è definita quindi non ci interessa e invece il numeratore quando è che è positivo beh meno 4x maggiore di 0 vuol dire 4x minore di 0 vuol dire x minore di 0 se e solo se x è minore di 0 che cosa vuol dire? vuol dire che dove x è minore di 0 la nostra derivata è positiva e quindi la funzione è crescente dove x è maggiore di 0 la derivata è decrescente la funzione è decrescente attenzione è decrescente dove? attenzione crescente e decrescente e decrescente negli intervalli andate a rivedere la dimostrazione che abbiamo fatto e l'enunciato che abbiamo fatto oggi la derivata ci dà un'informazione di crescenza e decrescenza negli intervalli quindi più corretto sarebbe stato se qua avessi disegnato meno 1 più 1 e avessi detto prima è crescente tra meno infinito e meno 1 poi è crescente tra meno 1 e 0 poi è decrescente tra 0 e 1 e poi è decrescente tra 1 e infinito questa è la visione corretta delle cose e 0 cosa ci dice? prima è crescente poi è decrescente questo è un massimo locale un massimo locale che essendo negativo non potrà essere assoluto dato che qua è positiva quindi qua la funzione è crescente qua la funzione è crescente e poi decrescente ma come vedete mentre qua è positiva qua è negativa non è crescente in assoluto su tutto questo intervallo e qua la funzione è decrescente di nuovo essendo qua negativa e poi qua positiva non è decrescente dappertutto è decrescente negli intervalli in 0 è un massimo locale se vogliamo calcoliamoci quanto vale la funzione in 0 la funzione in 0 vale 0 al quadrato più 1 diviso 0 al quadrato meno 1 cioè 1 diviso meno 1 cioè meno 1 questo qua è meno 1 e questo qua è un massimo locale essendo un massimo locale quello che già sappiamo è che lì la derivata sarà minore o al più uguale a 0 non potrà essere maggiore di 0 lì la funzione deve essere concava ok quindi in realtà vedete che abbiamo un sacco di informazioni anche qua la funzione deve essere concava qua deve essere concava qua deve essere convessa qua deve essere convessa abbiamo trovato un sacco di informazioni tutte queste informazioni che già sappiamo continuiamo a portarceli dietro nel grafico nella testa in qualche modo in modo da avere un metodo per confrontare dopo se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o se è tutto corretto bene andiamo avanti ridisegno il mio grafico che non fa male quindi abbiamo 1 meno 1 ogni volta che lo ridisegno lo sto ridisegnando peggio ma tanto voi ce l'avete disegnato bene da qualche parte mi auguro lo stiate facendo anche voi il grafico vero? qua la funzione è negativa qua la funzione è positiva abbiamo un asintoto orizzontale pari a 1 anzi addirittura sappiamo che la funzione è sempre maggiore di 1 qua quando è maggiore di 0 è anche maggiore di 1 qua abbiamo così 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 qua va meno infinito va meno infinito qua passa esattamente dal punto 1 e quello lì è un massimo locale quindi in realtà essendo un massimo locale in quell'intervallo che è dove è negativo addirittura abbiamo anche scoperto che la nostra funzione non sta mai qua non sta mai in non è mai in modulo compresa tra meno 1 e 1 questo è meno 1 a questo punto sesta cosa che facciamo è calcolare la derivata seconda per trattare la convessità trattiamo la derivata seconda utilizzando la trattiamo la convessità utilizzando la derivata seconda ci riscriviamo chi è la derivata prima la derivata prima era meno 4x diviso x al quadrato meno 1 al quadrato di nuovo questa è una cosa della forma una funzione diviso un'altra funzione quindi abbiamo che la derivata di questa funzione è semplicemente ora ho chiamato g e h cose diverse rispetto a quella di prima ovviamente cioè sto semplicemente riutilizzando una formula e uso nomi che ho già usato ma tanto sappiamo che sono cose diverse ok sono nomi che ho definito soltanto localmente abbiamo il denominatore al quadrato e abbiamo derivata del numeratore per il denominatore meno numeratore per derivata del denominatore prima di andare avanti vi faccio notare una cosa avete notato come f' è una funzione dispari diviso una funzione pari cioè una funzione dispari effettivamente se partiamo da una funzione pari l'abbiamo già detto mi pare allora la sua derivata sarà una funzione dispari se partiamo da una funzione dispari la sua derivata sarà una funzione pari questo è un altro ottimo modo per controllare di non aver fatto errori ovviamente non è che ci controlla di non aver fatto errori ma è un modo per trovare degli errori banali se per caso ci sono ci aspettavamo che la funzione derivata venisse dispari e in effetti è venuta dispari non vuol dire che l'ho fatta giusta ma vuol dire che almeno quell'errore banale non c'è ora la derivata seconda mi aspetto che venga pari bene cosa ci servirà a calcolare la derivata di g che la derivata di meno 4x è meno 4 la derivata di h la derivata di h è una funzione composta prima derivata della funzione esterna calcolata in quella interna quella esterna è elevare qualcosa al quadrato la cui derivata è due volte quella qualcosa quindi 2 per x al quadrato meno 1 per la derivata di quella interna che sappiamo già essere 2x quindi ecco la derivata bene ok allora questa cosa che cosa ci viene ci viene derivata della funzione sopra meno 4 per la funzione sotto x al quadrato meno 1 al quadrato meno derivata meno la funzione sopra che è meno 4x meno per meno fa più quindi più 4x per la derivata della funzione sotto che è 4x per 4x per x al quadrato meno 1 il tutto diviso il denominatore x al quadrato meno 1 al quadrato a sua volta al quadrato elevare due volte al quadrato vuol dire elevare alla quarta ora raccogliamo qualcosa possiamo raccogliere cosa possiamo raccogliere x al quadrato meno 1 e semplificarlo e qua diventa un 3 poi possiamo ovviamente ad esempio raccogliere un 4 se vogliamo e quindi questo diventa un 4 diviso x al quadrato meno 1 alla terza che moltiplica che cosa cosa ci rimane qua ci rimane un meno questo quindi meno x quadro più 1 e qua ci rimane un 4 l'abbiamo tolto ci rimane più x per x per 4 più 4 x al quadrato quindi tutto questo diventa 4 diviso x al quadrato meno 1 alla terza che moltiplica 4x al quadrato meno x al quadrato fa 3x al quadrato più 1 e ora qua come vedete sia nel polinomio di sopra che nel polinomio di sotto compaiono soltanto potenze pari quindi questo effettivamente è pari esattamente come ci aspettavamo non vuol dire che ho fatto i conti giusti ma perlomeno non c'è un errore banale bene di nuovo il denominatore qua che cos'è il segno del facciamo segno del numeratore segno del denominatore ovviamente 4 è positivo 3x al quadrato è positivo uguale a 0 più 1 è positivo quindi il numeratore è sempre positivo il segno è il segno del denominatore quindi f secondo è minore di 0 se soltanto se è maggiore di 0 non so perché ho deciso minore di 0 ovviamente è uguale però di solito si vede quando è che le cose sono positive è maggiore di 0 se soltanto se x al quadrato meno 1 al cubo è maggiore di 0 ma un cubo è maggiore di 0 se soltanto se quello che c'è all'interno è maggiore di 0 se non vi è chiaro perché andate a rivedervi la puntata sui monomi sul fatto che x al cubo è invertibile sul fatto che x al cubo è crescente eccetera 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 quindi x al quadrato meno 1 maggiore di 0 se solo se x al quadrato è maggiore di 1 il che non è se solo se x è maggiore di più o meno radice di 1 come a volte qualcuno scrive ma voi sicuramente no ma vuol dire come abbiamo detto prima è per valori esterni x minore di meno 1 oppure x maggiore di 1 o se preferite scomponete questo in x meno 1 per x più 1 come abbiamo fatto prima ora l'ho fatto in una maniera diversa giusto per far vedere che possiamo ragionare in maniera diversa quindi che cosa abbiamo abbiamo come punti fondamentali meno 1 e 1 che sono già segnati e abbiamo che se siamo prima di meno 1 la derivata seconda è positiva se siamo tra meno 1 e 1 la derivata seconda è negativa se siamo dopo 1 la derivata seconda è positiva e questo che cosa vuol dire sulla funzione sulla funzione vuol dire derivata seconda positiva vuol dire la funzione è convessa derivata seconda negativa vuol dire la funzione è concava derivata seconda positiva vuol dire la funzione è convessa attenzione noi sappiamo già che qua e qua doveva essere convessa, è coerente, non abbiamo fatto un errore ovvio, qua, qua e qua sapevamo che doveva essere concava e concava, non abbiamo fatto un errore ovvio, qua e qua doveva essere convessa e convessa non abbiamo fatto un errore ovvio. Ora procediamo quindi a disegnarci un grafico approssimativo della nostra funzione, che è un grafico approssimativo e contiene tutto e solo quello che ci abbiamo messo dentro, niente di più e niente di meno. Riassumendo, in questo studio di funzione che abbiamo fatto abbiamo trovato un sacco di cose, un sacco di informazioni e queste informazioni le abbiamo messe nel grafico. Attenzione che il grafico è solo un metodo veloce per riassumere le informazioni che abbiamo trovato, ma non c'è nessun'altra informazione. Le informazioni sono esattamente tutte quelle che abbiamo ricavato. Alcune potranno essere rese bene dalla nostra capacità grafica, altre meno. Il fatto che sia simmetrico da come disegno io non sembra così evidente, però attenzione, il grafico ha soltanto un modo per visualizzare le cose. Ovviamente se fate un grafico con strumenti informatici viene molto molto preciso, anche se non è esattamente la realtà. Gli strumenti informatici fanno delle approssimazioni. Quindi attenzione, non è che se calcolate un qualcosa con un computer o con una calcolatrice grafica viene certamente esatto. Anzi ci sono dei casi in cui possono sbagliare perché fanno le cose con delle approssimazioni e vengono sbagliate le approssimazioni. Quello che è fondamentale è avere noi sotto mano la questione. Come vedete qua, nella lavagna avevo disegnato appunto una funzione con un grafico, con delle tangenti orizzontali rosse dove erano massimi minimi relativi, con delle tangenti oblique blu nei punti di flesso dove la concavità cambia. Vedete appunto ad esempio qua che prima il grafico della mia funzione sta sopra la tangente perché la funzione è convessa. Dopo il grafico della mia funzione sta sotto la tangente perché la funzione è concava. E qua avevo segnato un riassunto di quello che sapevamo sulla funzione e sulle derivate. Dalla derivata seconda scopriamo che qua la funzione è concava, qua è convessa, qua è concava. Dalla derivata prima scopriamo le zone di crescenza e di decrescenza della funzione. Quindi ovviamente questi sono strumenti molto molto importanti per trattare una funzione, per capire come si comporta, ma ricordiamoci che sempre che nel grafico c'è tutto e solo quello che ci mettiamo noi. E attenzione, se non riusciamo a disegnare il grafico con le cose che abbiamo scoperto, mettendo esattamente tutti i dati che abbiamo scoperto, c'è una possibilità non piccola che effettivamente le cose siano in contraddizione tra di loro, che non riesco a farlo perché è impossibile farlo, quindi riguardate i conti e cercate di scoprire se c'è effettivamente qualche errore.